Io ho semplicemente il taglio corto e penso di dover pagare lo stesso prezzo di un uomo. Ricordate la vicenda della nostra telespettatrice di Bovolenta che chiede lo stesso trattamento economico di un uomo quando va dal parrucchiere? Bene, lei vuole che le sia applicato un taglio da uomo e pretende di pagare la tariffa da uomo e non da donna che vale 5 euro in più. Ma cosa ne pensano gli artigiani? Ecco la risposta di una delle categorie. Formalmente è corretto perché il taglio donna ha una determinata prezzatura, insomma ci sono determinati accorgimenti diversi che noi uomini siamo meno esigenti, il taglio uomo è un'altra cosa. Però il taglio della signora Vincenzina è maschile a tutti gli effetti, almeno fino a quando non arriva alla cassa. Come darle torto sul principio? Io immagino un uomo con i capelli lunghi e un uomo con i capelli corti, ma come fai a fare due? Insomma non è semplice, io dico sempre il buonsenso risolve tutto. Sul piano formale comunque anche i parrucchieri hanno le loro ragioni, regolare la fattura, regolare il trattamento economico applicato. Ma sotto tutti i punti di vista è assolutamente corretto regolare il taglio donna a una sua quotazione, il taglio uomo a un'altra quotazione, per cui è tutto regolarissimo. Non resta insomma che una soluzione. Il buonsenso ora, cioè tecnicamente ha ragione il parrucchiere chiaramente, poi se la prestazione di servizio più o meno, che si mettano d'accordo. Non siamo sicuri però che la signora Vincenzina si rassegnerà, non abbandonerà l'idea di continuare a cercare qualche artigiano che le dia ragione e che le applichi la tariffa giusta. Sì d'accordo, ma a questo punto qual è la tariffa giusta?